Ciao amici, oggi vi parlo di un problema abbastanza fastidioso che ho avuto di recente. In pratica io sto usando lo Xiaomi Mi 11 e spesso mi trovo a connettere dispositivi Bluetooth quali auricolari piuttosto che gli altoparlanti della macchina. Bene, è da un po' di tempo che quando ricevo chiamate o quando effettuo chiamate con device Bluetooth collegati il telefono piuttosto che mettere l'audio in uscita come giusto che sia o sull'altoparlante Bluetooth della macchina utilizzi come audio la capsula auricolare del telefono. Ora questo è un problema soprattutto se ad esempio mi trovo in bici piuttosto che mi trovo in macchina perché ho la necessità di fermarmi, prendere il telefono in mano, modificare l'uscita audio della chiamata e quindi continuare la normale conversazione. All'inizio non avevo idea di quale fosse il problema quindi ho pensato a un problema di app non aggiornate problema su Android Auto, problema su Vattela Pesca però in realtà tutte le ipotesi che avevo fatto si sono rivelate subito errate perché nessun aggiornamento ha portato miglioramenti in questo senso. Vi faccio vedere adesso qual è la mia configurazione dei device Bluetooth. Ho connesso gli auricolari FreeBuds 3 e l'Honor Magic Watch 2 quindi in questo caso mi aspetto che facendo una chiamata la chiamata venga messa come out sugli auricolari Bluetooth che sono connessi. Vi faccio vedere che succede. Chiamo per esempio il servizio clienti e in automatico vedete il telefono ha switchato l'output su telefono non su auricolari. Questo mi impone di dover andare poi a manina, cambiare l'output sugli auricolari e riprendere la chiamata come giusto che sia dagli auricolari. Bene, come avete visto non è che è un'operazione complicatissima però è un'operazione che ti ruba attenzione, ti fa perdere tempo è una bella rottura di scatole. Quindi le ho pensate tutte, ho aggiornato tutte le app ho cercato di vedere nelle configurazioni chiamate eccetera eccetera niente è servito e vi faccio invece adesso vedere la soluzione. Tra i device Bluetooth la colpa è dell'Honor, dello smartwatch di casa Huawei quindi entrando nello smartwatch in pratica quindi accedendo dal menu dei dispositivi Bluetooth alle opzioni presenti per lo smartwatch vi faccio vedere è sufficiente togliere la spunta dall'utilizzo per le chiamate sì, è una funzionalità in più che c'è sullo smartwatch cioè la possibilità di ricevere chiamate rispondere dallo smartwatch direttamente però la uso poco quindi alla fine disabilitarla non fa nulla non mi crea così tanto danno ma soprattutto permette al device di gestire correttamente tutte le uscite audio quindi in questo caso se ricevo una chiamata e disabilito questa funzione qui la chiamata va direttamente sugli auricolari quindi vi faccio vedere rifacciamo la stessa chiamata di prima come vedete già in automatico lui mette l'output su FreeBuds 3 quindi sugli auricolari Bluetooth stessa cosa succede in macchina e questo diciamo che mi ha permesso di risolvere il problema che vi ho raccontato prima sì, tutto sommato facile la risoluzione come abbiamo visto basta disabilitare questa voce qui è anche vero che utilizziamo lo smartwatch in maniera un pochino come se fosse un po' castrato perché ha la funzionalità di permetterci di rispondere al telefono ma non la stiamo sostanzialmente usando non la usavo quasi mai quindi per quanto mi riguarda tutta questa grande perdita non ce l'ho però quando mi dovesse servire questa funzionalità in realtà in alcuni casi soltanto mi è servita e in quei rarissimi casi l'abilito però per il resto diciamo che così riesco a con questa configurazione che vedete passo il più del tempo nell'utilizzo di telefono e vari device pensavo che con l'ultimo aggiornamento dell'app Huawei Health che ho scaricato di recente si potesse risolvere il problema in realtà anche l'ultimo aggiornamento non ha portato a alcun beneficio e quindi ho deciso di farvi questo video di condividere questa mia esperienza sperando di poter essere di aiuto a qualcuno ho letto sui vari forum in italiano non avevo trovato nulla e quindi diciamo che probabilmente altre persone hanno avuto lo stesso problema ma non lo so, non in Italia quindi vi lascio niente questa mia piccola esperienza chiaramente se avete dubbi, commenti o se trovate una soluzione alternativa che eviti di castrare le funzionalità dello smartwatch che abbiamo però castriamo per questo problemino fatemelo sapere così magari riesco pure io a usarlo al 100% delle sue funzionalità ciao a tutti